Il tour che stiamo facendo è questo qui, free for two, poi vi mandiamo tutte le indicazioni sotto nel link. Stiamo per cominciare questo free tour, c'è già chi si lamenta perché non vengono le comose di quel formaggio che qui è alla base dell'alimentazione. Ciao! Lo yogurt è stato inventato qui, cioè qui erano i proto-Bulgari che trasportavano il latte sul dorso dei cavalli in delle sacche, quindi quando viaggiovano per molto tempo, visto che non erano sedentari, il latte a causa del movimento del cavallo e del calore del cavallo diventava yogurt. Dicono che Bulgari sono stati sempre molto forti perché mangiano molto anima, tipo Sparta e luna. L'alimentazione di Lacto Bateria, che si tratta di yogurt, e perché era un Proud Comerian, si tratta di Lacto Bateria con il Comerba. Buono, si raffredda. Cos'è? Quando diamo plazio, no? E' tata torta, non mi ricordo come si chiesa. Un yogurt con cincetriolo. Questo è la posta di mattia. Cosa è? Chi sa c'è? Formaggio? Formaggio. Stratto. Il secondo giro è stato tosto. Come si chiama? Baliska mi sembra. La balisca, bella piena di olio, però molto buona. E poi, un po' di musica italiana così, quella. La balisca, bella piena di olio, per la mamma, 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 per la mamma. Più aglio che pane, qui dentro. Continuiamo il nostro tour culinario. Abbiamo appena mangiato delle tartine, anzi dell'aglio con delle tartine. Un po' di aglio sulle tartine, un po' di aglio. Ragazzi, ho appena scoperto che il carrettino non ce l'abbiamo solo noi. Questa è un tipico locale. C'era una colomba, che non vuole andare via. Vediamo che è successo. Non vuole andare via. Ciao! 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 Grazie per la visione!